Musica Salve a tutti ragazzi bentornati sul canale di Queltaleale Eccoci qui, ritorniamo con il nostro SimCity Riprendiamo, ripartiamo da dove ci eravamo lasciati Allora, cos'è? Ah cazzo, non mi dire che non basta più l'energia Perché Cioè io non posso fare più niente, quindi Questa qua è la centrale, stop Altro non posso fare, quindi Questo che vuole? Che ti manca? La scuola, carenza di lavoratori? Sti cazzi, la scuola professionale l'ho dovuta abbatte, giovane Non c'era spazio Sì, devo avere la possibilità di avere un'università Avrai la scrivania piena di richieste Potresti dedicare del tempo alla ricerca di una grande opera Stazione fotovoltaica? Ah, ecco che voleva Ma che no, assolutamente no Noi invece la ricerchiamo per Richiedere la facoltà di scienze Grande opera, stazione fotovoltaica Anche no Turbina verticale Tore termico Tore neutroni veloci addirittura Generatore di carbone pulito Petrolio pulito Centro chirurgico No, vabbè Ala investigativa addirittura Grande opera centro spaziale Questo voglio Richiede la facoltà di ingegneria Facciamo il centro spaziale noi Facciamo gli astronauti Che richiedeva il centro di ingegneria Ok Che Ok, che vuole Distruisci più studenti in un giorno Per raggiungere la soglia Per il prossimo miglioramento Come cazzo faccio Ah, mille studenti Ma se sta chiuso questo Ma perché sta chiuso poi? Ho un altro dormitorio Faccio un altro dormitorio Così ci viene più gente Dai Però subito Non è che stiamo qua Veloci Perché stiamo qua A perdere tempo Vogliamo il centro spaziale Vabbè Vediamo Ah, tra l'altro L'avevamo appena aperta Quindi probabilmente Per quello che era ancora Chiusa Eeeh Questo perfetto Toglie tutto Toglie tutto Dobbiamo visitare una clinica Un ospedale Dobbiamo visitare una clinica Un ospedale Eeeh Andiamo avanti Ma perché se no Perché se no Non è che possiamo Mi fai fare sto cazzo Centro spaziale Vai Grande Migliora Sì ma migliora Non mi hai detto che posso Ah ok Facoltà di ingegneria Vai Facciamo il centro spaziale Giovani Così Inizia progetto di ricerca No era l'ultimo Grande opera centro spaziale Ci sto Vai Qua facciamo gli astronauti A quel tale siti Andiamo verso la luna E sportiamo la nostra La nostra genialità Sullo spazio Proprio Andiamo Andiamo a colonizzare Marte Ma Vabbè Non mi richiedete zone Perché non c'è più spazio Quindi non rompe di coglioni Diversa la cosa Poi magari nella prossima città Vi trasferirete Sti cazzi Ma quando Prima dobbiamo curare bene questo Tecnologia Antimateria Tossici Scoperta Antimateriali tossici Antimateria Vabbè non fa niente Voi intanto Un per cento di Ricercati Ci vorrà una vita Ma non fa niente Noi intanto qua Questo produce 120 tonnellate al giorno Perfetto Questo va Bene Questo vende Questo pure 120 tonnellate Questo produce Ottimo Questo vabbè Ci abbiamo sta cazzo Di plastica in eccesso Ma non ci posso fare Niente Ma questa fumera Che cos'è E' inquinamento Ecco qua No il carbone c'è Dai non dite cazzate Che ne estraiamo A milioni di tonnellate Guarda qua 120 tonnellate al giorno Come che c'è chiuso C'è il casi personale Stiamo scherzando Date immediatamente A lavorare Fate gli schizzinosi Adesso che ho aperto L'università Non è che dovete Da tutti scienziati Astronauti Che oggi ho detto Niente Da demolirla Una zappa in mano Il mio sindaco preferito Mantieni un tasso di approvazione 75% O più Per 24 ore Cioè Guarda qua Ecco La felicità industriale Un po' Un po' bassa Però sti cazzi Non è che possiamo Fare felici tutti E come detto Non avevo visto Quando ho iniziato il video Non ho più pallida idea Vabbè Qua potevamo fare qualcosa No ma non c'abbiamo più spazio La roba di Poi ho già in progetto Una città Dedicata al gioco d'azzardo Poi faremo tutte città Un po' diverse Questa è diciamo Una città dedicata Un po' All'estrazione dei minerali E cose del genere Poi ne faremo magari una Con A base turistica Una Dipenderà anche dalle risorse Un'altra Petrolio Eccetera E cose Reso conto mensile Delle transazioni commerciali Come stiamo A livello di transazioni commerciali Eh stanno Calando un po' In realtà Mi sa che stiamo Calando Ma se Aumento una puntina Le tasse Giusto Così Che dite Si incazzano Vediamo un po' Undici Non è alto Fino a mo' Abbiamo tenuto le tasse basse Però qua Vabbè che perdiamo tanto Però comunque Recuperiamo Vendendo Tanto Però Ma questo che era Guadagna Due milioni Giornalmente Con i metalli Manca Un milione e tre Ah beh Due milioni Un po' esagerata Come cosa Giovane Migliora il quartier generale Dei metalli Per farlo diventare Un Global Metalli Non ce la faremo mai Perché Dai Siamo al 2% Quanti ricerche Ci vuole un anno e mezzo Qua per arrivare Al centro spaziale Questo che vuole Tutto è così altamente tecnologico Costruiamo una fabbrica di processori Per dedicarci alla vendita di processori Cazzo stai fuori Andrò la mettono La fabbrica di processori A parte che non ci entra Poi noi produciamo Un po' di roba Così random Fabrica di processori Non mi ricordo neanche Con Cosa Li producono i processori Comunque Comunque non possiamo Oddio In linea teorica Forse da qualche No Non abbiamo proprio spazio Qua sopra No cazzo Dobbiamo abattere le industrie Non mi sembra proprio il caso Anche perché poi No questa la costruiamo altrove In un'altra città Leva Leva Via via Va bene Vabbè qua Cioè sostanzialmente Adesso Non c'è molto da fare Siamo quasi arrivati Alla conclusione Al trasferimento Verso un'altra città Perché ragazzi qua Non è che possiamo fare Molto altro Ormai Questo è Non si può produrre metallo Delle leghe Aspetta fammi Sì ho capito Stoccaggio materiale Ok Mancanza di riciclabile Non si può produrre Metà Ah ok Perché non c'è roba Da riciclare E vabbè Che cazzo vuoi Se non ci sta meglio Significa che facciamo Meno Meno cose Meno rifiuti No vabbè Lasciamo perdere Perché dobbiamo fare Un'altra camionetta Random Così La fonderia Questa va Bene Anche questa Produce Ottimo Questo produce Leghe Questa produce Mi sa sia Leghe No quella Produce metalli Mi sa Metallo Sì questa sia Metallo che leghe Va bene La popolazione Difficilmente Aumenterà Perché Lo spazio È quello che è Quindi A meno che Non proviamo A disintegrare Anche queste Strade qua Che volando Si potrebbe Anche provare Dai Questi cazzi Dai Mi ha battuto Un po' tutto Ma non fa niente Un attimo Rimettimi Una cosa qua Se no Ampliamo No Sembra che Non vogliono Ampliare Ci avevamo Provato Ma niente Non hanno voglia Ah questo Non era Un grattacero Un coso Di vendita Di Zona commerciale Anche ad alto Livello Dov'era Qua Ok Va bene I pompieri Che vogliono No i pompieri Ci stanno Non Scassate i maroni Dov'è il coso Dei pompieri Qua Ah no Un po' Si è allargato Questo Ma che Vuoi Che ti manca No più niente Non posso inserire Più niente Giovane Un'altra Te la potrei fa' Ma Se ci entra Da qualche parte Se no No Ah qua ci entra Si stiamo tutti Accavallati però Allo stesso punto Magari la facciamo Come l'area Oh grande Qua Facciamo un'altra cosa Dei pompieri Così stiamo proprio A posto A livello di crimine Come stiamo Aspetta un attimo Magari ne mettono Vediamo se riusciamo Eh no Questa è più grande E te la metto qua Dai Così raggiungiamo Un po' Tutte le zone Potenzia Potenzia Tanto là Non c'entrava Con qua niente Tanto vale Che lo occupiamo Con Cosa dei pompieri Questo non so Ok Stavate Vai con le prigioni Ultimo piano Sopra Così Bravo E vai con le volanti A bomba Eh Offriamo servizi Servizi per tutti E possiamo mettere Se non sbaglio Anche un Mettiamocelo Quello delle auto Ma ci sta costruito Qualcosa Ma ci sta costruito qualcosa là No Ah no Ok Ma Come me lo Cioè me lo collega Alla rete Sì Sì Vabbè magari Se riusciamo A piazzarne uno Da qualche altra parte No Se me lo riesci a mettere qua Pure pure Se no Ciao Ho uno qua Ah Sono felici Vedete Mi piacciono le auto elettriche Ai giovani qua E allora Piazza bene un altro qua Va Divertitevi Ah tutti sono più felici Proprio Acquistiamo l'universo Dimelo Ma che ci sta qua vedo A una casa Ok Vai vai Divertitevi E se ci entra Ti piazzo l'ultimo No Senza distruggere niente Aspetta Magari qua dai Ok Tanto fa felici un po' Tutti Vai vai Divertitevi Perfetto E Vabbè dai Procede tutto Abbastanza bene Soldi qua Continuiamo a immaginarne Non mi dica La polizia Ti manca qualcosa Perché muo Ho aperto un'altra centrale Quindi non scassa Dei maroni A livello di Immondizia Cosa ti manca Ah la cosa della plastica Vabbè si Sempre quello Possiamo fare Nient'altro Questo No vabbè Non ce la faremo mai Idem a questo Siamo arrivati ad un punto di Qua siamo all'11% Di ricerca Ma può essere che la ricerca Magari è influenzata Dalla quantità Di studenti Cioè se tipo Diciamo Un altro dormitorio qua Magari Che ne sai E Poi magari mi fai Il coso pedonale E qua me lo puoi No Ah ma Ah ma Ah ma Ah è questo Vabbè me lo colleghi così No Si può Si fa un po' Cagare No Lascia così Girate in tondo Vi divertite lo stesso E Vabbè Comunque continuiamo a produrre in modo Llamoroso Abbiamo fatto un'altra centrale dei pompieri Una del Un'altra di polizia Deposito una metta in funzione Va a bomba con gli autobus Stessa cosa Abbiamo costruito tutte quelle Cose per le auto elettriche Che non so se utilizzeranno Magari Vediamo Dov'è che ne abbiamo Piazzato uno Lo usate Sto cosa della Nissan Si c'è uno che Spreme il sole Viene da stazione di irrigamento Della Nissan Ah ok Stai a caricare Ci vuole una vita Vabbè Questo che sta a fare Vabbè Se vi divertite voi Che vi do di E Qua un po' stanno aumentando La popolazione No Siamo arrivati a 23.000 Quindi Populations Non è male come cittadina Dai Ci sono un po' di grattacieli Adesso ha preso più forma Ci sono scuole di tutti i tipi Tanne quella Professionale Che ho dovuto disintegrare Ma noi L'abbiamo sostituita Con un'università Con un campus estremo E soprattutto Stiamo progettando La conquista dello spazio Quindi direi che è stata Giustificata L'eliminazione Di quella Scuola professionale Intanto Vediamo un attimo A livello di Devastazione Del territorio Cosa stiamo facendo Allora Vediamo un attimo Questo cos'è Mappa della popolazione Ok Vabbè Le scuole Giustamente Sono quelle Un po' più Pienotte Mappa Della felicità Eh Questi stanno Proprio felici Eh Sì Magari Quelli che stanno qua Stanno un po' Incazzati Come una bestia Però Non fa niente Per il resto Stanno tutti Abbastanza felici Su Mappa Della densità Degli edifici Vabbè Giustamente Grattacieli Etcetera Residenziale Negozi Industriale Vabbè Vediamo un po' A livello di Energia C'è Sono tutti Alimentati Perfetto Non c'è mancanza Di niente Acqua Pure state Abbondanti L'acqua Noi la Togliamo da qua Che è Dove è più Abbondante Dove è più Pulita Tra l'altro E Qua è un po' Di zozzeria C'è stato Assolato Mastica A livello Di Mappa Delle acque Revlo E vabbè Abbiamo Ammoccato Tutto qua Quindi è tutto Pulito Tra l'altro Cioè Guardate Che A livello Di Mappa Dello Smaltimento Riciclaggio Cioè Questi Riciclano Tutti Eh Cioè Bisogna Prendere Esempio Oddio Non tutti Però Nelle zone Un po' Più Popola Ose Si Ricicla Grande Mappa Degli Incendi Eh Vabbè Qua è Alto Però C'abbiamo Cioè I Bomberi Stanno Qua Di Fronte Quindi Abbiamo Tamponato La Cosa Livello Di Sanità Eh Qua Magari Stiamo Un po' Concentrazione Batterica Vabbè Per Quello Non Possiamo Fa' Niente Qua Perché Si Estrae La Robba Dal Sottosuolo Quindi C'è Un po' Del Merdume Insieme Mappa Della Copertura Della Mappa Ah Qua È Parecchio Criminalità Oddio La criminalità Che cazzo Qua forse c'è più crimini Vabbè giustamente Alla stazione di polizia I criminali Stanno tutti ingabbiati Quindi è normale Che ci sta più Concentrazione Lì Effettivamente Allora Non iscritti Qua c'è qualcuno Non iscritto Che fate Dalla mattina A sera Andate a scuola Vi divertite Qua Qua proprio La bomba Milioni Questo cos'è Radioattività No Vabbè Non produciamo ancora Bombe atomiche Non possiamo farlo Mappa del vent Ma che è cambiato Il vent Prima andava Verso di là Vabbè che è meglio Così che ce lo sposta Sopra Perché qua È che producevamo Un po' di Merdaccia Vabbè qua Il sottosuolo Ormai qua L'avevamo smerdato Ci sta poco da fare Pure qua Non è che sta messo bene Questo è l'inquinamento Da qua Va sopra Vabbè Perfetto Ci evita Qua C'è questa scia Di inquinamento Che non fa niente Perché becca Quella Difusione Poi la zona Industriale L'estrazione Eccetera Se ne va tutto Sopra Quindi sti cazzi Questa cos'è Mappa dei batteri Vabbè l'abbiamo vista Prima Mappa degli autobus Sì gli autobus Ci sono Magari ne potevamo Mettere qualcuno In più Però lo spazio È quello che è Tram non ce li abbiamo Questo cos'è Mappa delle navi No che navi Mappa del turismo No che vengono a fare Il turismo Mappa del commercio Qua vendiamo pure L'anima Mappa del petrolio Non ce l'abbiamo noi I minerali Sì li stiamo Pian piano prosciugando Dal sottosuolo E il carbone Stessa cosa Ecco qua C'era dell'altro carbone Ma dai non fa niente Poi magari Se ci servirà Più avanti Andremo A togliere un po' di gente Per il resto ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Noi ci vediamo allora Con il prossimo episodio Non so se magari Fare una nuova città O aspettare che qua Almeno finisca la grande opera Oppure Ci ripresentiamo dopo A vedere Se l'hanno completata Per il resto ragazzi Io vi ringrazio Per aver seguito questo video Siamo a 2 milioni e 100 La città comunque È avviata bene Quel tale city E niente Vabbè ci vediamo allora Al prossimo video gameplay Un saluto a tutti Da quel tale Ale Ciao a tutti Ciao a tutti